Anima gemella, accade che nel tracciare il cammino verso la meta incrociamo altri sentieri. Accade che nell'incontrare un altro assetato viandante accordiamo al suo il nostro passo. Accade che nel camminare dolcemente a suo fianco i sentieri si fanno uno e la salita diventa così faticosa, a volte dolorosa, ma nella pienezza della vita diviene indispensabile. E l'anima, diventata nostra, non più mia, non più sua, chiede di essere amata.